Musica Vieni a scoprire il nuovo reparto pescheria! Troverai il pesce pescato dei nostri mari! Ti aspettiamo per provare tantissimi piatti caldi e freddi preparati da noi per voi! Pizza e dolci senza glutine e tante tipologie di pane! Nella nuova Coop trovi l'essenziale per te e la tua casa, con un nuovo reparto di accessori e catalighi! La nuova Coop è uno spazio moderno e accogliente! Ricco di servizi per una spesa veloce e completa! Ti aspettiamo! Ti aspettiamo! Grazie a tutti! Ti aspettiamo! 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 Grazie a tutti